Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà questo giovedì a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio avvenuto domenica scorsa sulla costa crotonese e che ha provocato la morte di 67 persone, se in cui accertate, ed un numero ancora imprecisato di dispersi. Il Capo dello Stato, secondo quanto si è appreso, si dovrebbe recare alla paramilone dove sono allineate le bare delle vittime del naufragio. Intanto non si placano le polemiche sulle modalità di attivazione dei soccorsi. Come è possibile che il Centro Nazionale di Coordinamento, NCC, che ha sede presso il Ministero dell'Interno, abbia classificato il caso di un'imbarcazione con 200 persone a bordo, con onde fino a 2,5 metri, come operazioni di polizia e non come evento SAR, ricerca e soccorso, lo chiede la ONG Sea Watch, riferendosi alla tragedia avvenuta a largo di Crotone, dove sono stati recuperati 67 corpi di naufraghi e vi sono ancora decine di dispersi. Frontex ha affermato che nelle ultime ore di sabato un proprio aereo che monitorava le acque italiane nell'ambito dell'operazione Demis ha individuato un'imbarcazione fortemente sovraffollata diretto verso le coste italiane. La stessa guardia costiera nel 2017, spiega Sea Watch, agiva considerando ogni imbarcazione sovraffollata un caso SAR di per sé. Allora, si chiede alla Sea Watch, chi da Roma non ha dato l'ordine alla guardia costiera di Crotone di intervenire? Il comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, Vittorio Aloi, ha spiegato che le loro motovedette avrebbero potuto navigare anche con mare forza 8, ma bisogna riferirsi ai piani operativi e agli accordi ministeriali che ci sono, ha detto. Continua ad aumentare il numero di vittime del naufragio di domenica scorsa sulla costa crotonese. Le ricerche procedono senza sosta di giorno e di notte. Le urla strazianti di una giovane donna afghana sulla bara della sorella con la quale era partita dall'Afghanistan per trovare una vita migliore risuonano nel palazzetto dello sport di Crotone dove è stata aperta la camera ardente per le vittime del naufragio. L'arrivo dei superstiti e dei parenti delle vittime è stato il culmine del dolore. In alcuni casi sono dovuti intervenire i sanitari per soccorrere alcune persone che avevano ritrovato sulla bara il nome del congiunto. Una parte degli 81 superstiti e i parenti delle vittime, arrivati soprattutto da Germania, Austria e Olanda, hanno poi celebrato una breve funzione religiosa. Al momento la polizia scientifica è riuscita a dare un nome a 42 vittime. Le identificazioni stanno continuando. Guardi, la parola giusta probabilmente è riflessione. Da oggi in poi dobbiamo riflettere veramente su come poter aiutare questa gente che ha mare, su come salvarla perché non deve restare in acqua un minuto in più. Abbiamo visto cosa accade quando si alzano le onde, quando il mare è in tempesta. Ed è terribile, è terribile. Ha sconvolto tutta la comunità, non solo crotonese, ma come si fa. Ripeto, adesso bisogna guardare avanti. Oggi è il momento del dolore, dell'amarezza. Guardi, sono un insieme di sentimenti che è veramente difficile. Era un dovere morale esserci, essere vicino a chi si è prodigato per dare soccorso, vicino alla città di Crotone, a tutti i sindaci del circondario che hanno dimostrato questa grande solidarietà che anima la Calabria, ma soprattutto essere presenti sul luogo di un disastro che non cesserà mai di turbarci, di inquietarci, di agitare le nostre coscienze. È veramente tremendo girare nel palazzetto tra le bare, pensando a tutte le persone che hanno solcato il mare per cercare una vita migliore e hanno trovato qua la morte. È una tragedia che sarebbe rimasta tale dovunque fosse accaduta, ma che per l'appunto è accaduta tra Catanzaro e Crotone e ci chiama anche a dare risposte. Noi nel nostro piccolo ci siamo messi a disposizione della Prefettura, del Comune di Crotone, che veramente sono stati straordinari. Quindi ci siamo come cittadini, ci siamo come istituzioni, ci siamo come uomini. Il Comitato Marocchino per aiuto e tutti, ho sentito io morte, le persone sono arrivato subito, tre giorni io qua, per aiuto, per mangiare, qualcuno è morto, mandare il paese su, io già pronto. Solo adesso ho sentito assai, serve io cimitero qua, perché non ho morto tutti i giorni sentito, tutto il paese, Pakistan, France, Syria, Iraq, tutto il mondo islam, sempre serve a terra. E questa è la coppa che è il problema adesso così. Io per alcune magliette, alcune mangiare, la Comitato Marocchino è già pronta. Sempre l'aiuto, sempre l'aiuto. Non solo l'islam, ma tutto il mondo, io pronto. grazie. Tanto dolore, tanta rabbia. È il momento ovviamente del cordoglio, della riflessione forse. L'unica cosa che riusciamo a dire oggi come cittadini, come associazione, come comunità anche cutrese, perché rappresentiamo anche loro come Comitato Donne. È solo una preghiera, una preghiera affinché cose di questo tipo non succedano più, che non dobbiamo contare ancora tutti questi morti. Sì, solo tanto dolore, tanta tristezza. Uomini, donne e bambini che cercavano solo un futuro migliore. Purtroppo hanno trovato la morte. Questa è una cosa molto brutta, vedere tutte queste bare. Credo che sia veramente il momento di prendere sane considerazioni, politiche sia nazionali che internazionali, che possono cercare di salvaguardare questo fenomeno dell'immigrazione. dispiace. Io come padre, come nonno, vedere questi bambini che cercavano solo, come ho detto prima, un futuro migliore. È veramente straziante. Sono cose che non si possono vedere, non si possono accettare. È chiaro che c'è una corresponsabilità ed una responsabilità sociale in quello che è avvenuto e tutto dovrà essere considerato con attenzione. Però ci vorrebbe anche, almeno in questo momento, che ci fosse una tregua dalle polemiche e si sperimentasse dentro di sé quella umanissima pietà per le persone che sono morte e per le famiglie straziate dal dolore. Lo ha dichiarato Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo di Crottone Santa Severina. Il messaggio in questo momento è fatto di poche parole, perché questo è il momento della pietà, il momento umanissimo nel quale davanti al segno delle bare, davanti al segno della morte, ognuno di noi invoca il Signore, il Dio della vita, che accolga questi nostri fratelli e perché noi ci battiamo un po' tutti il petto anche, perché è chiaro che c'è una corresponsabilità, è una responsabilità sociale in quello che è avvenuto e tutto dovrà essere considerato con attenzione. Però mi piacerebbe che almeno in questo momento ci fosse una tregua dalle polemiche e si sperimentasse dentro di sé quella umanissima pietà per le persone che sono defunte, per le famiglie straziate dal dolore. Nella scrittura si parla di un vento nei salmi, di un vento che squarcia le navi. Il vento gelido dell'egoismo, il vento gelido della paura, il vento gelido della chiusura, il vento gelido di paesi nei quali i diritti non sono riconosciuti, il vento gelido di un sistema economico che produce paesi in cui bisogna scappare, il vento gelido di una corresponsabilità che ci chiama tutti in causa. Quindi questo sia non tanto il momento della polemica, sia invece il momento della pietà e della preghiera. verrà un tempo in cui, non di pancia ma con la testa e con il cuore, occorrerà riflettere accuratamente su quello che è avvenuto e su come si debba fare perché queste cose non accadano più. Il procuratore della Repubblica di Cortone, Giuseppe Capoccia, giunto in visita alla Camera Ardente, si è soffermato con i parenti e le vittime del naufragio di domenica. A lui è stato chiesto soprattutto di fare in modo che le salme possano essere restituite alle famiglie al più presto per essere sepolte nei paesi di origine o nelle nazioni europee, dove si trovano ori parenti. Il magistrato ha informato che da parte della Procura della Repubblica per i cadaveri che sono stati già riconosciuti non sussistono ostacoli di natura giudiziaria. Nelle prossime ore il centro coordinamento soccorsi aperto nella prefettura di Cortone esaminerà le procedure per la sepoltura o il trasferimento dei cadaveri. La setta aereo Frontex, che per primo ha individuato l'imbarcazione dopo le 22 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia, non aveva segnalato una situazione di pericolo o di stress a bordo, evidenziando la presenza di una persona sopra coperta e altre sotto coperta e una buona galleggiabilità dell'imbarcazione. Poi c'è stato un peggioramento delle condizioni meteo. Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi in audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera sulle linee programmatiche del di Castero. Ci sono stati eventi in cui anche la gestione del trasbordo e l'affiancamento del mezzo si è rivelata tragica, ha continuato Piantedosi, per cui fidiamoci di chi ha fatto la valutazione e quindi del personale che è deputato a fare quel lavoro. Non c'è stato neanche un sistema di allertamento da parte del battello di chi era a bordo, che avrebbe potuto far virare verso una qualificazione chiara e marcata da parte di Search and Rescue. Il jeep del Tribunale di Crotone ha convalidato il fermo di due dei tre scafisti della barca naufragata domenica scorsa davanti alla costa di Cutro, causando la morte di 67 persone, mentre altre sono ancora disperse. I due, un turco di 50 anni e un pakistano di 25 anni, sono stati fermati nella giornata di lunedì dalle forze di polizia insieme ad un giovane pakistano di 17 anni, per il quale procede il Tribunale dei minorenni di Catanzaro, che ha fissato l'udienza di convalida per giovedì. Il GIP Michele Ciociola ha disposto la misura cautela in carcere per i due che sono indagati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, omicidio colposo plurimo e lesioni. Nell'ordinanza di convalida, il giudice ha disposto la misura cautela in carcere per i due ed anche per un altro indagato che al momento è irreperibile, un turco di 27 anni, ma che è stato individuato dagli investigatori come scafista grazie alle indicazioni dei superstiti del naufragio. La decisione del giudice è motivata al concreto pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. C'è un'inchiesta della procura, ma non riguarda noi, riguarda in generale l'andamento dei fatti. Se e quando saremo chiamati a dare la nostra versione, atti alla mano, brugliacci di telefonate, comunicazioni che ci sono state, noi riferiremo. Per ora non c'è stato chiesto materiale, né siamo stati convocati. C'è tutto un altro genere di attività in Corsin, in questo caso da parte dell'autorità giudiziaria e di polizia e quindi questa cosa ormai verrà fatta sicuramente, ma prossimamente. Una segnalazione nostra di stress 24 ore prima non mi risulta si trattasse di stress, lo ha detto il comandante della Guardia Costiera di Crotone, Vittorio Aloi. Perché non siamo usciti? Non è così il discorso. Dovreste conoscere i piani, gli accordi che ci sono a livello ministeriale, le nostre regole di ingaggio sono una ricostruzione molto complessa, non da fare per articoli di stampa. Ho notato a poche centinaia di metri dalla riva del mare un'imbarcazione in legno di medie dimensioni con a bordo tante persone. Queste persone stavano segnalando un SOS con le luci del telefono, presumibilmente. Ad un tratto notavo che l'imbarcazione per via del mare agitato delle forti onde si è ribaltata e contemporaneamente distrutta in diverse parti, a dirle un pescatore di steccato di cutro sentito dai carabinieri. L'uomo si trovava nella zona del naufragio già da prima dell'incidente ed ha assistito alle fasi dello sfasciamento dell'imbarcazione. Lui ed altri due pescatori hanno riferito che intorno alle quattro hanno notato l'imbarcazione nei pressi di una secca e udito voci provenienti dalle acque antistanti in la spiancia di steccato di cutro. Sono 72 i contagi riscontrati in Carabria a fronte di 1920 tamponi eseguiti e con il tasso che è sceso al 3,75%. Non ci sono decessi, aumentano di una sola unità i ricoveri nei reparti di cura totale 96 stabile, la situazione nelle terapie intensive a 5.